primo lo è e quindi io ti chiederei di darci un assaggio della tua abilità con il cerango ok, presento l'artista è giusto perché l'artista è lui, non è Michel ma è il cerango ha anche un nome? no no? ok, quindi non c'è il vezzo del nome al cerango come le chitarre mi hai dato un'idea ah vedi vedi ci penso Michel Barros Bressonza qui su Radio Siena mi hai dato un po' 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 però... che però... complimenti, complimenti complimenti complimenti... effetti il suono molto simile al mandorino...